Bene, bene, eccoci di nuovo in diretta a 18.54 minuti in questo nono giorno del mese di settembre qui a Radio 6, 98 e 100 in FM, in diretta in contemporanea su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre. Noi siamo quelli della libertà, io devo andare di corsa perché stiamo in ritardo. Io sono Stefano Benedetti, lui è Federico Polizzi. Buonasera a tutti, eccoci! Un saluto al mio amico, collega del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi. Albertino Albertone, come stai? Bene, salva a tutti. Ciao Alberto, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Collegato con noi uno degli ultimi crossatori, uno degli ultimi crossatori dalla sinistra che ha indossato la maglia della Lazio, Raffaele Sergio, come stai Raffaele? Buonasera, buonasera. Buonasera Raffaele. Allora, allora, intanto contento e felice di ritrovarvi qui su Radio 6. Alberto, tu, che è sto fischio? Non lo so, c'è qualcuno che ha la cintura, che succede? No, sto mettendo, te lo dico io. A retromarcia. È Polverosi che sta mettendo la retromarcia. Ovviamente, guarda, sono bello sul divano senza retromarcia. Allora Raffaele, che c'ha i sensori del parcheggio. Sono io, sono io, è colpevole sono io. Allora, Albertone, è ancora presto per farti fare, diciamo così, un pronostico per quanto riguarda le prime quattro, no? No, credo che tu sia d'accordo. Il mercato ancora praticamente non c'è, quindi, insomma, mi sembra... Però tu, un anno... Si può fare il pronostico per la stagione scorsa. No, un anno, poco meno di un anno fa, tu però... Ti abbiamo anche un po' sberfeggiato, ti abbiamo fatto i linguacci e cose. Praticamente, in diretta radio ci dicesti che praticamente eri sicurissimo, dopo che la Lazio era arrivata ottava in campionato, anche se aveva vinto la Coppa Italia, eri sicurissimo che la Lazio sarebbe entrata in Champions League. Questo te ne devo rendere atto. Dici una marea di stupidaggini, però... Però devo dire che nello stesso pronostico avevo detto che il Napoli poteva vincere lo scudetto, invece è arrivato... Però può succedere questo. No, avevo detto due cose sulla Lazio, due cose, che secondo me sarebbe rientrata in un Champions, perché basavo questo pronostico sulla qualità del centrocampo, nettamente, ma ormai da un po' di tempo, il più forte centrocampo della Serie A. E il secondo pronostico era su Immobile, perché per me Immobile avrebbe vinto la classifica dei cannonieri, e infatti mi ha dato ampiamente, straordinariamente, no, ampiamente ragione. E quindi mi veniva facile pensarlo, pensare a un posto da centrocampo, perché dicevo, al miglior centrocampo, per me proprio in modo chiaro, a quello che io penso possa diventare di nuovo il capo cannoniere della Serie A, per cui è difficile scalare, infatti è andato così. Che ne pensi degli acquisti già effettuati? Fares è a Roma, è praticamente scalante, Murici che stiamo aspettando, speriamo, da un momento all'altro, il portiere Reina, che cosa ne pensi? Io credo che il miglior acquisto per ora sia Reina, non ridere, non ti mettere a ridere perché... No, non mi metta a ridere anche se vorrei che colgo l'occasione per ricordare, perché questa che sto per darvi è una notizia, non un'indiscrezione, che Reina farà il secondo portiere. Sì, sì, no, non ci possiamo, anche io faccio il secondo portiere, però è uno di quei giocatori che in un gruppo, in un gruppo ambizioso, dovrà essere per forza quello della Lazio il prossimo anno, per visto che gioca in Champions League, in un gruppo del genere è un aiuto fondamentale, è un sostegno fondamentale. Innanzitutto perché è uno stimolo forte per Stracoscia, è uno stimolo forte per Stracoscia perché lì non si può abbassare il livello della tensione, perché quello si porta via al posto. Due, perché dentro lo spogliatoio, come dicevo, è un giocatore che senti, cioè che incide, che ti trascina, che fa spogliatoio, come si diceva almeno una volta. E gli altri sono tutti da verificare, io Scalante francamente non ti posso, posso dare un giudizio secco, di Murichi, tutti, di Mocchini, Mocchini, dico bene, sì. Murici, Murici, Murici in realtà, Murici. Murici, Murici. Rossovaro. Tutti dicono, ma me ne parlano bene, e da quello che si è visto, nei filmati, che però sono sempre viziati da, sai bene, da cosa, dai promoter, appare un giocatore importante, notevole, e per caratteristiche anche facile da inserire, almeno un'apparenza facile da inserire nel calcio generale. Io credo però, tutta una chiesa, che alla Lazio, per ripetere il campionato scorso, e per migliorare, e per giocare, finalmente, una Champions League, serve a qualcosa di... Come ad esempio un centrocampista, un difensore? Esatto, senza compre dubbio, perché quando l'anno scorso è andato giù, Lucas Leiva, si è vista la difficoltà della Lazio, tutta la difficoltà della Lazio. Sono d'accordo, d'accordissimo. Io credo che lì, nei tre, se noi scegliamo, prendiamo i tre, Melenkovich, Leiva, e lui dice Alberto, io credo che serva il quarto, di quel livello lì, che non è facile, io capisco che non è facile, però serve. La Champions non può essere... la Lazio non lo potrà mai fare, come ha fatto l'Europa League, e dovrà fare assolutamente. Non solo l'Europa League, ma è anche un altro campionato, un altro torneo. Eh, appunto, voglio dire. Esatto, esatto. Oltre ad avere un prosciugamento di energie da parte di tutti i giocatori che la aspettano in una maniera incredibile, perché, scusate il gioco di parole, è una vetrina incredibile, e anche assorbe tante di quelle tante di quelle energie che praticamente se non sei più che attrezzato, sia dal punto di vista mano che psicologico, rischi di far male sia la Champions che il campionato. Alberto, Raffaele, se mi aspettate un minuto vero, abbiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo insieme a voi. Vai. Bene, 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 eccoci di nuovo in diretta 19.05 di questo nono giorno del mese di settembre qui a Radio 698 e 100 in diretta in Contemporanea su Città Celeste e TV, canale 85 del Digitale Terrestre. Ci ripresentiamo a beneficio di coloro che si fossero messi soltanto ora all'ascolto. Io sono Stefano Benedetti, lui è Federico Renzi. Buonasera a tutti, pronti e carichi? Eccoci. Questa trasmissione si chiama Quelli della Libertà e i nostri ospiti sono Raffaele, Sergio. Ciao Raffaele. Ciao Raffaele. E di nuovo buonasera e grazie ad Alberto Volverosi del Corriere dello Sport. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Allora, chiedo subito a Raffaele che idea si è fatto di questa campagna acquisti e se manca qualcosa, cosa manca a questa Lazio? No, ho ascoltato con molto piacere Alberto Volverosi che ha fatto un'analisi molto rilibrata e molto professionale su tutta la situazione Lazio. credo che sono d'accordo quasi al 100% su quello che ha detto, quindi credo che la Lazio ha dei punti forti e importanti, ha qualche situazione da colmare in qualche ruolo, secondo me, per affrontare tre competizioni molto importanti come quelle che si trova ad affrontare, quindi in qualche situazione sicuramente c'è da correggere ancora qualcosa. con molta fiducia a entrare perché sicuramente negli ultimi anni ha sbagliato poco, ha sbagliato molto, molto poco, ha sempre centrato acquisti dal nulla, quasi dal nulla, acquisti importanti, credo che anche quest'anno sarà la stessa. Ha un gruppo, secondo me, già compatto e rodato da diversi anni, penso che la Lazio con qualche altro acquisto un po' più mirato sicuramente potrà fare bene nelle tre competizioni. Anche se sono difficili. Tu sei d'accordo con me che il tuo tanto elogiato a notare probabilmente dovrebbe puntare su dei profili di livello un po' più internazionale per giocare questa Champions League? Uno più uno nel calcio, Stefano, non è che fa due. Diciamo che la Lazio in qualche, già la presenza di Reina che è una presenza importante di grande spessore, sia sotto l'aspetto umano che sotto l'aspetto della copertura di un ruolo così importante. Quindi è naturale che poi bisogna scoprire questi giovani nuovi che si devono inserire in questo contesto, però ho fiducia perché poi la politica, non ci dimentichiamo Stefano, che bisogna sempre capire la politica che fa la società. No, è proprio questa che forse io con grande garbo però, senza voler accendere una polemica perché tanto non la mando a dire a nessuno quindi è questo quello che mi sento di dire. Però credo che nessuno chieda alla Lazio di vincere questa Champions League. Forse sarebbe già una bella impresa a superare il primo turno visto che sarà in terza fascia quindi c'è il rischio di incontrare... È naturale che un direttore Stefano si adegua sempre alla politica che decide la società. No, no, ma per carità però voglio dire quante giocatore con un'esperienza un po' più internazionale molto probabilmente David Silva per capirci non avrebbe fatto male che hanno provato No, no, ma lì non è stata colpa della Lazio infatti la Lazio penso che avrebbe fatto aveva fatto tutto quindi è naturale che non è facile nemmeno individuare un giocatore con grandissime potenzialità che possa dare quel tributo alla Lazio David Silva sembrava qua tutto fatto poi che è saltato tutto quindi non è semplice molte volte mettere la pedina giusta anche nel mosaico giusto perché poi non è detto che uno è fatto di equilibrio diciamo che la Lazio ha già un complesso di squadra abbastanza forte è naturale che in alcuni in alcuni alcuni tasselli devono essere devono essere rinforzati in maniera che possa affrontare questa competizione è una competizione importante è molto difficile però il tempo in qualche maniera c'è ancora e quindi credo che sicuramente la Lazio qualcosa di buono farà Spendereste fra i 20 e i 30 milioni per Mara Scumbulla a parto d'Alberto Polverosi e poi Raffaele Sergio Alberto Sì sì perché la cifra allora solita premessa io non sono un esperto di mercato lo leggo mi piace mi incuriosisce ma non non lo so non sono proprio dentro se mi chiedi mi dici ti è piaciuto Spinazzola terzino mi piace più parlare di partita di Cade sul campo che del mercato però detto questo fatto questa promessa mi sembra che la valutazione sia un pelino alta però il giocatore c'è tutto c'è 20 anni a 20 anni voglio dire forse se questo giocatore Alberto è forte forte 20 milioni sono pure pochi pochi non mi sembra perché comunque è un campionato di serie A e non è che hai una prova è una contro prova però il giocatore io sono d'accordo con te su questo lo stavo dicendo c'è tutto c'è un giocatore che soprattutto nell'Alasio all'Alasio farebbe molto comodo perché come è lo stesso discorso fatto per il centrocampo io credo che dietro un giocatore pronto giovane ma comunque pronto faccia faccia molto sia proprio indispensabile ecco per tutti gli impegni che avrà che avrà la Lassa con Bulla o con Bulla come si pronuncia è uno di questi giocatori ecco l'unica l'unico appunto come posso dire in sospesso è che bisogna valutare gli ex veronesi un po' come gli ex atalantini cioè dentro per esempio a Frentina ha preso per me uno dei migliori centrocampici della scorsa stagione Avrabat ecco voglio sono curioso di vederlo nella Frentina o anche in un'altra squadra forse è andato un'altra squadra se riesce a ripetere lo stesso rendimento che aveva nel Verona anche i Durbe anche i Durbe ti ricordi esatto sì ma io parlo di questo Verona perché è una squadra in cui il collettivo è determinante come nell'Atalanta più che in altre più che nella stessa Lazio perché nella stessa Lazio ci sono delle giocate individuali a parte i gol di Immobile le giocate di Luisa Alberto di Milico che illuminano la scena invece il Verona e l'Atalanta sono proprio le giudichi le guardi in base al collettivo che riescono a esprimere ecco tolte da quel collettivo da quel contesto vediamo che cosa fanno secondo me fanno bene tutte e due perché si vede però ecco sono curioso li aspetto con molta curiosità e lo stesso come la difesa del Verona è una difesa forte e ne posso dire forte fisicamente anche tecnicamente è una difesa proprio simile a quella dell'Atalanta perché se vedi Rachmani era uno che giocava nella metà al campo avversaria sempre fisso e con Bullard invece era un po' più difensore difensore io lo prenderei posso per la vassa e lo farei questo investimento perché più che una spesa è fatta di saletare un investimento Raffaele Sergio Raffaele su Cumbulla Sì sono d'accordo con Alberto io penso che è un investimento giovane ha bisogno di tempo perché non ci ripetichiamo che Verona non è Roma ha bisogno di tempo ma sono fiducioso perché comunque vai in un contesto di 4-5 giocatori importante che la Lazio ha quindi ha un gruppo importante sicuramente l'inserimento se andiamo a vedere un attimino gli inserimenti degli ultimi anni dei nuovi acquisti pian piano si sono inseriti tutti il gruppo Lazio è un gruppo molto coeso molto compatto e anche i nuovi acquisti hanno ma il tuo collega di reparto Fares caro Raffaele Sergio che giocatore è? lo conosci? è un giocatore importante diciamo che sorveglia tantissimo a Lazzari e soltanto per sinistra insomma sicuramente va a rinforzare un reparto importante a buona campo a un buon piede a una buona corsa a un buon cross quindi sicuramente può contribuire in maniera positiva positiva contributo e dare un contributo così Alberto in un minuto che siamo in chiusura di collegamento hai seguito questa nuova vicenda legata alla Lega Calcio? no e allora vado a leggere dalla Gazzetta dello Sport questa è una notizia molto importante che sta passando un po' in cavalleria il titolo è Dalpino il Dalpino è il presidente della Lega Calcio il via libera ai fondi è una sfida colossale allora andiamo a leggere avanti con la media company anche senza i fondi lo ha detto Paolo Dalpino presidente della Lega Serie A parlando in conferenza stampa al termine dell'assemblea che ha aperto all'ingresso dei fondi di investimento in una media company per la commercializzazione dei diritti di V abbiamo approvato la costituzione di una media company in partnership con un fondo al verificarsi di una serie di condizioni da certificare al 100% se siamo a questo punto è perché abbiamo già fatto tanto lavoro abbiamo limitato l'analisi a chi seriamente per mesi ha lavorato a questo progetto la nostra visione non è diversa da quella di De Laurentiis ma dobbiamo andare in velocità con una governance che funzioni e con un partner all'altezza la parola inizio la daremo quando avremo un partner al momento siamo su un cammino da finalizzare ha spiegato il presidente sottolineando poi che con i fondi approfondiremo il piano industriale nei prossimi giorni ci saranno una serie di riunioni e comitati tecnici ma sarà una cosa molto rapida con un esame approfondito di alcune tematiche cioè praticamente in soldoni queste società che entreranno nella Lega gestiranno i diritti televisivi e si pensa ad un aumento quasi del 60% del fatturato considerando che con Sky incassavano mille milioni rotti di euro si parla di 1600 milioni che entreranno nelle casse delle squadre di Serie A quindi staremo a vedere quello che succederà perché sarà praticamente ovviamente ufficializzato e finalizzato nel momento in cui ci saranno maggiori notizie non so se volete fare un commento Alberto Lavorano sempre per i soldi quindi la banca della Lega aveva bisogno di altri introiti io dico soltanto quando non è che sono superato sono del paleolitico giurassico giurassico quando si è trattato di fare il calendario hanno fatto in modo che la sala nazionale mi sia riservato mezza giornata di lavoro a differenza di quello che hanno fatto in Francia in Germania eccetera hanno fatto il calendario pensando a loro stessi mai alla nazionale che sarà costretto a un presidio brevissimo prima dell'europeo non posso dire altro perché io le vedo così le cose le vedo vecchie superate mai con i tempi di oggi a me sembra una cosa che non si possa fare è una cosa contro il calcio però loro si chiamano Lega Calcio pensano al dinaro allora io lì non c'entro non mi mischio nel senso vedo le cose in una maniera completamente diversa Raffaele dice che ci saranno dei finanziamenti anche per la Raffaele Sergio Academy hai capito arriveranno sicuramente quei 100 milioni insomma così hanno detto sono già stanziati stiamo parlando di economia stiamo parlando di soldi stiamo andando verso una direzione dove poi il calcio giocato il calcio vero sentite questo e poi ci salutiamo la media sempre da gazzetta.it la media company dovrà infatti gestire i diritti televisivi queste aziende esterne sul tavolo sono due le offerte arrivate alla serie A entrambe per il 10% della nuova media company da una parte quelli del trio CVC Advente e FSI da 1625 miliardi dall'altra quella del duo Bain NB Renaissance da 1,3350 miliardi entrambe inoltre con meccanismo di minimi garantiti da 1500 miliardi di ricavi annui anche se con modalità diverse una decisione a riguardo vera presa entro la fine del mese hai capito vero Betta hai capito questo è quanto hai ragione Raffaele stiamo parlando di economia non è più calcio va bene ragazzi io vi ringrazio grazie Raffaele Sergio grazie Raffaele un abbraccio ci sentiamo più avanti per i pronostici anche con Albertone Volveroso grazie Alberto un abbraccio ciao 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 a tra poco lì nella regia bye